L'insulto definitivo deve essere risparmiato. Pensavo di aver sentito qualcosa. Non mi sfuggirai. Fatti vedere e potrai lasciarti vivere. Sei qui, idiota. Lo sapevo. Non deve essere stato nulla. Qui niente. Penso non fosse nulla. La pagherai per questo. Vai al diavolo. Degenerato. Sparpagliarsi. Muoversi. Non puoi nasconderti da me. Non mi sfuggirai. Ti troverò. Degenerato. Ora basta. Scappa. Codardo. Oh! 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 Continua a combattere. Continuare. Muori. Dissoluto. Morte ai nemici della legione. Per Caesar. Esplosivo, fratelli. Attenti, fratelli. In ritirata. Correte, fratelli. Correte. Scappa finché puoi. Spostati o ne pagherai le conseguenze. Tu non sei di qui. Oh! 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 Non mi sfuggirai. Nasconderti come un codardo non ti salverà. Per Caesar. Io ti troverò. Sei mio. Ti vedo. Ti ho trovato. Li ucciderò se tornano. Sembra siano scappati. Li ho fatti scappare. Non ci sono speranze contro la legione. Punizione! Vendetta! Rappresaglia! Una bella uccisione. Un altro da dare in pasto ai vermi. I deboli devono morire. Cos'è stato? Ho sentito qualcosa. Ave! C'è qualcuno? Un'altra uccisione nel mio nome. Muori codardo. Morte ai profligate. Mettila via. Attento alla tua arma. Pensi che non lo veda? Non mi tentare. So cosa stai facendo. Granata! Esplosivo! Sei senza onore. Ti disonori. Ladro senza onore. La teoria di Benny, se ho capito in mezzo a tutte le urla, è che il signor House abbia nascosto una specie di arma letale laggiù. Un robot gigantesco che ci travolga tutti. Chi se ne importa? Qualsiasi cosa sia la costruita House, dunque va distrutta. Come posso metterla in parole abbastanza semplici? È una teoria filosofica, di quelle che potresti incontrare se dedicassi del tempo alla lettura dei libri. La premessa fondamentale è vedere la storia come una sequenza di conflitti dialettici. Ogni dialettica inizia con una proposizione, una tesi, che contiene intrinsecamente o crea il proprio opposto, un'antitesi. Tesi e antitesi. Il conflitto è inevitabile. Ma la risoluzione del conflitto porta a qualcosa di nuovo, una sintesi, che elimina i difetti di tesi e antitesi, lasciando invece elementi e idee comuni. La bomba ha raso al suolo lo Stato. La civiltà umana si è inabbissata a un livello tale di ignoranza, che il nostro progresso è tornato al punto zero. L'RNC ha tutti i problemi dell'antica Repubblica di Roma. Estrema burocrazia, corruzione, lotte intestine tra senatori. Proprio come è accaduto all'antica Repubblica, è normale che una forza militare conquisti e trasformi l'RNC in una dittatura militare. Tesi e antitesi. Il fiume Colorado è il mio rubicone. Il consiglio dell'RNC sarà estirpato. Ma la nuova sintesi cambierà anche la legione. Da esercito nomade diventerà una forza militare stanziale, che protegge i suoi cittadini e il potere del suo dittatore. Quando avevo vent'anni, i seguaci mi mandarono a Est, al Grand Canyon. Fu la mia prima spedizione. Eravamo solo io e un medico di nome Calun. Come antropologo e linguista, il mio compito era apprendere i dialetti delle tribù del Grand Canyon. Che cazzo di perdita di tempo. Se pensi che sia utile far imparare a gente intelligente come parlano dei selvaggi arretrati, sei un seguace dell'Apocalisse. O un idiota. Comunque, incontrammo un missionario mormone che già conosceva diversi dialetti. Si chiamava Joshua Graham e doveva insegnarmi ciò che sapeva. Ma prima che potessimo farlo, la tribù dei Blackfoot ci catturò, nella speranza di ottenere un riscatto. Erano dei veri incivili, ma il vero problema era che non sapevano combattere. I Blackfoot erano in guerra con altre sette tribù, tutte inutili come loro, ma con una tale situazione di minoranza numerica non sarebbero durati a lungo. Una cosa è essere tenuto ostaggio, un'altra essere legato a una nave che cola a picco. E così, ignorando le obiezioni di Calun, decisi di compiere alcuni passi. Insegnai ai Blackfoot come usare le armi che già avevano, come smontarle e pulirle, come respirare quando si prema un grilletto, come caricare le munizioni. Mi guardavano come se fossi stato una specie di stregone. Insegnai loro a preparare gli esplosivi e iniziai a dividerli in unità tattiche più piccole. Se c'è una cosa che ho imparato come seguace dell'Apocalisse è che i libri antichi contengono un sacco di informazioni utili. Divide e timpera, dividi e conquista. Condussi i Blackfoot contro i Rigger, i loro nemici più deboli. Quando rifiutarono di arrendersi, ordinai di uccidere tutti, uomini, donne e bambini. Poi circondammo i Kaibab e anche loro rifiutarono di arrendersi. Tutto questo era nuovo per le tribù. Giocavano alla guerra, depredandosi gli uni gli altri. Un po' di stupri, saccheggi e rapimenti. Io gli insegnai la guerra totale. Come ho detto, c'è molto da imparare dai libri antichi. Portai uno dei loro messi al villaggio dei Rigger e gli mostrai i mucchi di cadaveri. I Kaibab si unirono a me, seguiti dai Fredonian. Tutte tribù insulse, con nomi che andrebbero dimenticati. Sapevo sin dall'inizio che avrei dovuto sradicare la piaga delle identità tribali e sostituirla con una cultura monolitica, un'identità uniforme. E questo è ciò che feci una volta che la mia confederazione di tribù fu abbastanza grande. Mi incoronai Caesar e creai un'unica grande tribù, la Legione. Rimandai Calun, il seguace catturato insieme a me, a Ovest, con il messaggio di non interferire con i miei piani. Joshua Graham, l'interprete mormone, rimase con me e fu il mio primo legato. Proprio così, decenni di guerre trascorsi a inglobare tribù più piccole e acquistare potere, a trasformare la feccia in una grande falcia affilata come un rasoio. L'espansione della Legione non è mai cessata. Buona parte di Utah e Colorado e tutto il territorio di Arizona e New Mexico sono miei. Abbiamo le nostre città, ma nulla regge il confronto con Vegas. Finalmente la mia Legione avrà la sua Roma. Tutto ciò che richiedo, infiltrazione, assassinio, terribili atrocità per abbattere lo spirito del nemico, eccetera. Sono mentalmente flessibili. Operano dietro le linee nemiche per lunghi periodi, imitando le abitudini del nemico senza macchiarsi. In tutte queste cose, Vulpes è un maestro. So che è morto. So che non è più un impiccio. Non mi serve sapere altro. I perdenti non hanno posto nei libri di storia. Non è altro che una nota a piedi pagina. Lucius è ormai il capo della mia guardia da cinque anni. Prima era stato guardia subordinata per otto anni. Nessun invitato ha ancora osato sfidarlo. Forse è una questione di rispetto. Inizia ad avere i suoi anni. Questo li spaventerà. Se riuscirò a uccidere chiunque desideri, allora sapranno che l'unico motivo per cui sono in vita è perché non ho ancora provato ad ammazzarli. Devi capire che Kimball è un simbolo. Senza di lui non ci sarebbe alcuna occupazione del Moave da parte dell'RNC. Ha radunato le truppe. Quelle che il Senato gli ha concesso di radunare. E le ha inviate. Tutte le ragioni corrette, attuate nei modi sbagliati. Un'invasione da parte di una democrazia non è né carne né pesce. Quando Kimball morirà, l'RNC dovrà ritirarsi dal Moave e rinunciare alla sua eredità. Prima che cerchino di riprendersi e colpire di nuovo, li avrò invasi io. L'Anius è un selvaggio. È anche selvaggiamente leale. Ma solo a me. Non ama la legione. Ma questo ha la sua utilità. Non prova alcun affetto per i suoi uomini. Non ha alcun rimorso per le perdite in battaglia. Gli interessa solo distruggere il nemico. Quando un altro legato o centurione non raggiunge risultati, mandò l'Anius a sistemare la faccenda. La prima cosa che fa è pestare a morte il comandante che ha mancato davanti alle sue truppe schierate. Poi ordina il rituale della decimazio. Questa parola vuol dire decimazione. Ma nell'antica Roma questo termine aveva un significato molto preciso. Era una punizione per i codardi. I legionari sono allineati in ranghi. Un uomo ogni dieci fa un passo avanti e viene ucciso a morte dai suoi fratelli. Infonde una certa obbedienza cieca. Sì, a quest'ora i miei legionari hanno più paura del comandante che sta dietro di loro che del nemico di fronte. Non ci saranno errori questa volta. Nessuna ritirata. Niente anni passati a raccogliere schiavi e risorse per un altro assalto. Con l'anius che conduce la legione in avanti conquisteremo la diga. Sarà la nostra testa di ponte attraverso il Colorado. Non accadrà più. È tutto ciò che ho da dire in proposito. Ho sentito che è una pessima idea stuzzicare l'ira di Cesar. Cambia argomento. Il Consiglio non osava opporsi a lei. Era troppo amata. Aveva l'affetto della gente dalla sua parte. Da quando ha perso la sua regina, la RNC si è indebolita. Divisa. La democrazia è stata la sua debolezza, non la sua forza. Le cose procedettero bene, più o meno. Non appena scomparve, non appena avrebbe potuto esserci una vera democrazia, che cosa avvenne? Certo, l'avversario più potente che la mia legione abbia mai affrontato. E anche il primo a cui io sia opposto ideologicamente. Fino ad ora, ogni tribù che ho conquistato era così arretrata e incivile che la schiavitù è stato un dono per loro. La mia conquista del Moave sarà un trionfo glorioso che segnerà la transizione della legione da una tribù nomade a un vero e proprio impero. Così come il mio omonimo ha combattuto in Gallia prima di attraversare il Rubicone, così ho combattuto anch'io e ora attraverserò il Colorado. So che è un codardo che si nasconde dietro un esercito di robot, rintanato in quella torre come un mago in uno di quei fumetti di Groniak. Alcuni dicono che sia un uomo, altri una macchina. Non mi interessa. Intralcia i miei piani. Ho analizzato le tribù della legione per capire come possono essere utili. Se ne avrò voglia, ti spiegherò i dettagli più tardi. Ecco, questo documento contiene le istruzioni su come procedere. Ecco, questi ordini scritti chiariscono tutto. Questi ordini scritti ti diranno cosa fare. Vai a trovare Vulpes per scoprire i dettagli della tua prossima missione. Per ulteriori istruzioni, vai a trovare Vulpes. Vai da Vulpes. Ti spiegherà tutto. Un tempo si narrava di una tribù cannibale nei pressi di Vegas, che si nascondeva in una caverna sotterranea e cacciava gli uomini in superficie. Gli scout che di tanto in tanto inviavo ad Ovest molti anni fa mi hanno raccontato di queste leggende, ma non hanno mai avuto contatti con questa presunta tribù, tranne, forse, quelli che non sono mai tornati. Si dice che i White Glove possono essere questa tribù perduta. Forse puoi aiutarli a trovare se stessi. Vai da Lucius per avere i dettagli della tua prossima missione. Per altre istruzioni, vai da Lucius. Vai da Lucius. Ti spiegherà tutto. Ho preso la Roma imperiale come modello della legione, proprio perché era così straniera, così... diversa. Avevo visto cos'era accaduto ai tentativi della RNC di emulare la cultura dell'America anteguerra. Quante lotte intestine. Quanta corruzione. Riuscì a fare in modo che i suoi cittadini si dedicassero a qualcosa che andava oltre l'individualità. L'idea di Roma stessa. In Roma ho trovato il modello di una società che doveva affrontare le stesse sfide del mondo post-apocalittico. Una società che poteva sopravvivere. E ci riuscì. Roma era un'autocrazia altamente militarizzata, che riuscì a integrare efficacemente le culture straniere che conquistava. Una società che impedì all'umanità di frantumarsi e autodistruggersi nel nuovo mondo, stabilendo una nuova Pax romana. Il che significa una cultura nazionalista, imperialista, omogenea, che annulla l'identità di ogni gruppo conquistato. Stabilità a lungo termine a ogni costo. L'individuo non ha valore oltre alla propria utilità per lo Stato, come strumento di guerra o produzione. No, lo distruggerò perché è inevitabile che sia distrutto. Si tratta di dialettica hegeliana, non di animosità personale. Lo ammetto, quel pezzo di merda aveva una forte determinazione. Ha usato una specie di dispositivo del vecchio mondo per attraversare il fiume su una barca della legione. Una volta arrivato, il dispositivo pare essersi rotto. Ma lui era vestito da legionario. È stato preso appena fuori la stazione climatica. Vedi, il fatto è che non ha cambiato pettinatura. Tutti quegli sforzi e poi fallire perché sei troppo vanitoso per scompigliarti i capelli. Ironicamente anche io sono nato Profligate, cittadino della RNC. La mia famiglia viveva non distante dal grande cimitero. Dopo che i predatori uccisero mio padre, mia madre cercò la protezione dei seguaci. Io avevo due anni. Trovò lavoro alla loro biblioteca. Cucinava e faceva le pulizie. Io imparai a leggere e presto iniziai a seguire i corsi, gratuitamente. Sì, certo. Sono cresciuto in quella tradizione e l'insegnamento era pessimo. Mi fu detto che era mio dovere portare la torcia della conoscenza nelle zone contaminate. Forse ho preso la faccenda della torcia un po' troppo letteralmente. Vuoi la mia opinione come ex cittadino o futuro conquistatore? In effetti la mia opinione non cambia. Da ragazzo mi è stato insegnato a venerare la presidentessa Tandy di Shady Sands, la madre fondatrice della Repubblica della California. Sapevi che la sua presidenza è durata 52 anni? E che suo padre, Aradesh, fu il primo presidente della Repubblica? Ti sembra una democrazia o piuttosto una dittatura ereditaria? Quando ti ordino di portare a termine una missione, tu la porti a termine o muori nel tentativo di riuscirci. Hai sprecato una grande opportunità per abbattere il morale dei profligate. Se non fosse per i servizi che mi hai prestato, ti farei crocifiggere. Sorvolerò su questo errore, ma solo perché penso che puoi ancora essermi utile. E tu credi che il valore del loro attacco a Helios, il caos che seminerà dietro le linee dei profligate, fa sì che valga la pena lasciarli in vita? E va bene, così sia. Della confraternita ci dovremo occupare prima o poi, ma per il momento ci servono in vita. E tu credi che si fermeranno lì? Quanto ci vorrà prima che attacchino la Diga o Vegas? I rischi sono più alti dei vantaggi. Torna al bunker e termina il tuo lavoro. Bene, è un inizio, ma ora devi convincerli a sostenere la mia legione. Digli che potranno continuare a seguire le loro abitudini alimentari senza alcun problema. Possono mangiare una porzione di ciò che conquistano. Bene, la tua prima sfida consiste nel raggiungere il loro insediamento senza farmi sparare. Dopodiché dovrebbe essere facile. Ti ho avvertito sul prezzo della disobbedienza. Evidentemente non mi hai ascoltato. Pretoriani, uccidetelo! Pretoriani, alle armi! Davvero? Chissà come mai la mia legione ha così poco affetto nei tuoi confronti. Allora dimmelo, perché sono proprio curioso. Io sono temuto, e per buoni motivi. Ma tu, tra tutti, osi venire qui e stare di fronte a me, il potente Caesar. Cosa ti hai rimesso in testa? Sai perché volevo incontrarti, vero? Un uomo ti ha quasi ucciso e così tu lo insegui in tutto il Moave. Arrivi alla strip ed entri nel Lucky 38 come se qualcuno ti avesse lasciato una chiave sotto lo zerbino. Ammazzi il capo della tribù dei Chairman nel casino di sua proprietà e la passi liscia. Vai al The Tops e guarda un po'. Il capo dei Chairman sta scappando dalla strip come un cucciolo impaurito? Missione compiuta, testa di cazzo. Non avrei mai sospettato nulla se non me l'avessi detto. Ma ora sono costretto a farti uccidere. Cerca di capire questo. Da questo momento in poi, qualsiasi altro crimine sarà punito con la morte. Niente eccezioni. Ti farò tagliare a pezzi dai pretoriani, come spettacolo per me. Capito? Ora torniamo al lavoro. Torna. Torna quando avrai notizie dei Boomer. Parla con Benny mentre esci. Sa che ti farò decidere il modo in cui morirà. Forse glielo vuoi ricordare. Allora vai all'edificio e porta con te questo fottuto Platinum Chip. I miei legionari ti incontreranno là, con le tue armi e attrezzature. Cos'hai appena detto? Vulpes inculta. Il migliore tra i miei frumentari è morto. Tutte le mazzette che ho mandato agli Omerta non sono servite a... niente. I Great Khan non sono esattamente entusiasti di lottare per la mia legione. La guarnigione a Nelson è stata spazzata via. Anni di complotti meticolosi per piazzare una talpa a Camp McCarran. Tutto lavoro sprecato. I King di Freeside ora collaborano con la RNC, il che libera dei soldati che così possono difendere la diga. Hai persino rovinato un accordo promettente per l'acquisto di armi con Ivan Graf. Poi succede qualcosa ai robot del Signor House. Una specie di potenziamento militare? Ma la ciliegina sulla torta? Il Coupe de Grasse? Il Signor House muore, mentre tu vai a trovarlo al Lucky 38. Quando ti metti in testa di fare una cosa, ottieni i risultati. Questo mi piace. Devi lavorare sulla tua sete di sangue. Non ci parleremo più finché Benny non sarà morto. Vattene se vuoi. Ma se lo fai, finirà in croce. Sarà comunque una tua scelta. Considerala la prima di tante onorificenze. Ma cosa combini? Quest'uomo ti spara, ti deruba e ti abbandona nel deserto a morire. Rispondi alla domanda. Addio. È stato portato dinanzi a me, insieme al Platinum Chip. È così che ho scoperto che non era una specie di infiltrato dei Profligate. Benny ha cercato di raccontarmi una storia. Ma Lucius ha un ottimo metodo per convincere i prigionieri a dire la verità. Ha svuotato tutto il sacco. E fai in fretta. Bene. In Ixigno Taurus vinces. Vai subito dal legato Lanius. Ti illustrerà il piano di battaglia. Torna vittorioso. O non tornare affatto. Lo feci curare. Era mutilato. La maggior parte del viso inesistente. Ci vollero giorni prima che riprendesse conoscenza. Quando si riprese, andai al suo capezzale e gli mostrai l'elmo che avevo forgiato per coprirgli il volto. Dissi che avrebbe potuto averlo se avesse combattuto per me. Accettò. A condizione di essere autorizzato a uccidere gli uomini sopravvissuti della sua tribù. Gli dissi che andava bene per gli uomini adulti. E l'accordo si concluse. Ne uccise 15 prima che lo fermassero. Non lo uccisero, ovviamente. L'avidità impazza. Il governo è corrotto. Accetta mazzette dai baroni dei bramini e da proprietari terrieri. A discapito dei cittadini. La RNC è un conglomerato slegato di individui che pensano solo a se stessi. Non c'è alcuna virtù. A nessuno interessa la collettività, il bene comune. Non è destinata a durare. Sto solo accelerando un processo inevitabile. Si chiama Autodoc. Come suggerisce il nome, si tratta di un medico automatico, più o meno. Sa curare fratture, tagli, ferite, graffi. Talvolta lo utilizzo su chi desidero avvantaggiare. È un regalo di grande valore, in una cultura che vieta gli antidolorifici e ignora quasi del tutto la scienza medica. Dannazione! Devo stragiarmi. Torna più tardi. Domani! Ma è stato così... male prima. Cosa ti sembra, testa di cazzo? Fammi andare alla mia sedia. Ti ho detto di farmi andare alla mia sedia. Quando ti ordino di portare a termine una missione, tu la porti a termine. O muori nel tentativo di riuscirci. Sorvolerò su questo errore, ma solo perché penso che puoi ancora essermi utile. Bene. Non so che tipo di sicurezza abbia all'interno dell'ACI 38, ma se trovi il modo di sorprenderlo con la guardia abbassata, fallo. Non devo spiegarti le ragioni che stanno dietro i miei ordini. Io te le comunico e tu li esegui. È molto semplice. Detto questo, di tanto in tanto sento affermazioni talmente ignoranti che mi obbligano a rispondere. Questa è una di quelle occasioni. Il morale dei profligate è di merda. Occupano il Moave da anni e ora vengono uccisi uno per uno. Gli avevano detto che sarebbe stato facile. Continuano a sentirsi dire che la vittoria è dietro l'angolo. Che Vegas capitolerà e diventerà il sesto stato della loro piccola unione. È il presidente Kimball che dice queste cose. L'enormità delle sue menzogne diventerà palese il giorno che morirà. Sembrerò una brutta barzelletta. Se dico che la confraternita deve essere distrutta, è necessario farlo. La mia legione è in grado di vincere una battaglia contro la confraternita d'acciaio, ma ci costerebbe molto caro. Il tuo compito è fare in modo che non ci sia alcuna confraternita con cui lottare. Ma davvero? Sei proprio in gamba, eh? Se i boomer sono fuori dai giochi, posso concentrarmi su altri progetti. Ma non senza averti prima ricompensato per la tua iniziativa. Ora, procediamo. Oh! Ti darò il Platinum Chip e tu lo userai esattamente come ti dirò io. Cos'altro? Allora? Un ottimo modo per risolvere la minaccia che rappresentavano. È incredibile che sia riuscito a superare il loro sbarramento. Ora, per quanto riguarda il tuo prossimo incarico, ho occhi e orecchie ovunque. Non posso invadere l'Ovest da sordo e cieco, no? Non è stato difficile seguire i tuoi progressi. Non hai di certo mantenuto un basso profilo. Vulpes è il migliore tra i miei frumentarii. Un uomo straordinario da una tribù indegna di nota a sud dello Utah. Fu portato alla legione da ragazzino. Sopravvissa all'addestramento e combatte abbastanza bene come legionario da essere promosso al rango di decano. Poi, in una battaglia contro una tribù insignificante, ruppe i ranghi e condusse i suoi contubernium attraverso un buco nella difesa nemica per catturare il loro capo. Il suo centurione voleva farlo crocifiggere per la sua disobbedienza. Così lo resi un frumentarius. Non mi fiderei di Benny per farmi lucidare gli stivali. Questo tocca a te. Dunque mi stai dicendo che sei un buono a nulla. Non sei assolutamente in grado di influenzare gli eventi. Io sono costretto a risolvere i danni della tua incompetenza. Cerca di fare meglio con il tuo prossimo incarico. Mi piace l'atteggiamento servile. Continua così. Bene. Assicurati che aiutino la legione quando sarà il momento. Per quanto riguarda il tuo prossimo incarico, mesi trascorsi a corrompere gli Omerta, a nutrire il loro tradimento, tutto andato in fumo. Altri crimini? Ci occuperemo di Benny al momento opportuno. Nel frattempo, parleremo del Platinum Chip al momento opportuno. Nel frattempo, Benny è mio prigioniero. Non ti occuperai di lui prima di aver avuto a che fare con me. Non ti preoccupare, avrai il Platinum Chip che portava. E poi lo userai come ti dirò io. Pretoriani! A me! Perché complica l'equazione delle forze. È un cane sciolto, un elemento imprevedibile. Quando vedrai Profligate perdere la battaglia, tuttavia potrebbe decidere di sostenerli. Ma non lo farà, perché sarà morto. Sono certo che stia cercando di non partecipare alla battaglia, proprio come fece quattro anni fa, nella speranza che legione e Profligate si eliminino gli uni gli altri. E così hai annientato la guarnigione che avevo dislocato a Nelson. La guarnigione è strategicamente essenziale. Cos'altro? Sei stato ricco di risorse in passato. Perché ora sei un fallimento totale? Farai meglio a ottenere risultati più soddisfacenti con il tuo prossimo incarico. Sta per giungere il momento in cui la mia legione assalterà la Grande Diga e invaderà l'Ovest. Prima che questo accada, voglio che il signor House sia messo fuori gioco, in modo rapido ed efficace. Il compito spetta a te. Prima che questo accada, voglio che il signor House scompaia dalla circolazione. Non solo l'uomo che hai ucciso, ma anche tutto ciò che ha lasciato dietro di sé, la sua eredità. E allora mettiti al lavoro. Esatto. In circostanze normali non accadrebbe più, perché saresti immediatamente crocifisso, o peggio ancora. Solo alla luce dei servizi straordinari che mi hai reso, ignorerò questo fallimento. Ricordati quanto devi farti perdonare. Quanto dovrai dimostrare il tuo valore con il tuo prossimo incarico. La cultura è una cosa strana. A volte una tribù si stanca della propria identità e coglie l'opportunità di reinventarsi. La tribù diventa così la propria antitesi. Tutto si sposta all'estremità opposta. La dialettica ci dice che questa situazione non può durare. Si deve giungere a una sintesi, a una soluzione conclusiva. Oh, hai intenzione di sfidarmi? Diffondi la notizia del massacro a Nipton, esattamente come ti ha chiesto Vulpes. Lampi di luce scesi dal cielo su Helios One hanno ucciso chissà quante truppe di Profligate. Silus, il centurione che si è fatto catturare, è morto a McCarran prima di poter rivelare informazioni sensibili. Hai liberato il centurione Silus da McCarran, in modo che possa essere punito per la sua vigliaccheria. La monorotaia che i Profligate hanno preso da McCarran alla strip è stata distrutta. Hai trasformato Camp Forlone Hoop in una fossa comune. Il capo Allon, una nemesi della mia legione, è morto nel modo umiliante che meritava. A Boulder City hai lasciato liberi quei rinnegati dei Khan, ma hai lasciato le truppe dell'RNC a boccheggiare a terra, affogate nel loro stesso sangue. Diverse stazioni dei mercenari RNC sono state eliminate dalla faccia del Moave, grazie a te. Ho capito. Abbiamo un nemico comune. E ora tu ti presenti al grande Caesar per cosa? Offrire i tuoi servizi? Sì, ma poi dovrei farli uccidere. Non lo so. E non mi piace non sapere. So che l'ha costruita il signor House. Probabilmente è una specie di arma che non può attivare a distanza. Dovresti ascoltare. Ecco cosa dovresti fare. Un uomo ricco di potenziale, trattenuto dal contesto politico in cui vive. Ti rendi conto che era un generale? Lo chiamavano l'eroe del Moave. Titolo che si è guadagnato estirpando le tribù minori che hanno osato attaccare i cittadini dell'RNC. Le sue reazioni furono rapide e draconiane. La presidentessa Tendi, la madre fondatrice, cuoceva a fuoco lento le tribù ostili. Ma i suoi successori erano meno ingenui. Così diedero campo libero a Kimball. E dopo una rispettabile carriera militare cosa fa? Diventa un politico. Ma lo è diventato grazie alle elezioni. Quale modo migliore per bloccare la crescita dei leader senza parlare di intere culture? Un leader non dovrebbe prostrarsi dinanzi a coloro che lo servono. Con così tanta energia sprecata per gli inferiori, come potrà mai avanzare? Se avesse assunto il governo con la forza, usato il suo esercito per un colpo di stato, le cose sarebbero molto diverse. Dovrò farlo io per lui. I miei pretoriani incarnano gli ideali marziali della legione. Ognuno di loro ha conquistato e ucciso abbastanza da meritare il rango di centurione. Invece, li ho invitati a unirsi alla mia guardia. L'invitato può dunque scegliere la guardia attuale che è più debole e sfidarla. La lotta è fino alla morte. Questo aiuta i miei uomini a non essere compiacenti. Mi aspetto dei risultati molto presto. E allora dovrai essere particolarmente convincente. Oppure li dovrai uccidere. Almeno i loro capi. Mettiti al lavoro, ok? Mi stai facendo perdere tempo. Hai idea di quanto lavoro ci sia voluto per piazzare una talpa a Camp McCarran? Cos'altro hai combinato? I boomer si sono insediati alla vecchia base aeronautica a nord di Vegas molti anni fa. Nessuno sa esattamente da quanto tempo sono lì. Forse nessuno ha commerciato o persino parlato con loro per tutto questo tempo. Se è così, sono seduti su una montagna di munizioni. I miei scout hanno visto gente muoversi intorno alla base. Il perimetro è presidiato dalle guardie, con le sentinelle nelle torri che dirigono il fuoco dell'artiglieria. Devono avere un'ottima vista. Alcuni dei miei scout sono stati avvistati a distanze incredibili. No, non so dirti cosa aspettarti all'interno della base. Nessuno ci è mai entrato, a parte loro. Lanius è il migliore dei miei comandanti in battaglia. Alcuni lo definiscono un grande uomo, ma non sono certo che lo sia. Un tempo era il miglior guerriero degli Hydebark, una tribù dell'Arizona, un maniaco della battaglia. Talvolta tendeva imboscate alle pattuglie della legione da solo. Quando, dopo molti mesi, trovammo e circondammo il campo degli Hydebark, il loro capo issò la bandiera della resa. Il guerriero, che non era ancora Lanius, impazzì dalla rabbia. Abbattì il suo capo e attaccò la sua stessa tribù. Bene. Sarà molto prezioso avere alleati sulla strip quando avremo conquistato Hoover Dam. Ora, per quanto riguarda il tuo prossimo incarico, forse avrei dovuto accecarti, così che la mia faccia fosse l'ultima immagine ammirata dai tuoi occhi. Senti, settimane di lavoro per convincere quei miserabili canna a unirsi alla legione. Altri crimini? I peggiori impulsi umani, concentrati in un'unica tribù folle e arretrata. La confraternita sembra essersi formata non molto tempo dopo la Grande Guerra Atomica. È difficile saperlo. Non si occupano molto della storia. Alcuni degli scriba della confraternita catturati a Est non sapevano nemmeno il nome del loro fondatore, Roger Maxon. Amano imbellettare la loro missione con simboli cavallereschi, ma non sono altro che zoticoni, zoticoni tecnologici. Sono passati 200 anni e hanno ancora la mentalità degli sciacalli. Dicono che stanno conservando queste tecnologie. Ma per cosa? Non hanno progetti. Non offrono alcun futuro. Solo un vicolo cieco. Certo, il loro odio per l'RNC sembrerebbe qualificarli come possibili informatori. Ma poi cosa ce ne facciamo? Ogni paladino è piuttosto potente. Dovrei essere convinto che i vantaggi presenti superano i costi futuri. Non pensi molto al futuro, vero? L'Anius ti starà aspettando. Il tuo arrivo gli indicherà che è ora di lanciare l'attacco. Cosa aspettarti? Sarà la battaglia e la vittoria più grande di tutti i tempi, da quando l'uomo ha quasi cancellato la sua presenza dalla faccia della Terra. Tatticamente è semplice. Uccidi e uccidi ancora. Potrai avere alcune sorprese in serbo per l'RNC, ma non ti riguardano. Altrimenti non saranno di alcuna utilità per la legione. Hai sprecato una risorsa potenzialmente preziosa. Ottieni risultati migliori con il tuo prossimo incarico o saranno guai. Ricorda bene le mie parole, pezzo di merda. Questa è l'ultima volta che rifiuti di eseguire un mio ordine. Se credi davvero in ciò che hai detto, farai meglio ad andartene, e in fretta. E dimentica tutto ciò che avrei potuto darti. Se mi disobbedirai ancora, ordinerò ai miei pretoriani di farti a pezzi con i loro macete, finché non sarai morto. E io mi godrò lo spettacolo. Esatto. Dovresti metterti in cammino, perché hai molto lavoro da fare. E tu ci hai creduto. Davvero. Ora dovrò farti uccidere. Rilassati, ti sto prendendo in giro. Il capo della tribù è una donna di nome Marjorie. Mi pare di capire che sia fortemente contraria al ritorno al cannibalismo. Nel caso sia inflessibile, puoi rivolgerti a Mortimer, il suo vicecomandante, un uomo più malleabile. Ora prendi il platinum chip, vai in quel bunker o come diavolo si chiama, e distruggi tutte quelle stronzate da bramino che ci trovi. Non ti sto chiedendo di farlo. Te lo sto ordinando. E se per caso stai pensando di dartela a gambe ora che finalmente hai il platinum chip tra le mani, dai, provaci. Ti darò la caccia e poi farò impalare la tua testa. Ora mettiti al lavoro. Vale. Non ti sto chiedendo di farlo. Te lo sto ordinando. Ora prendi il platinum chip, vai in quel bunker o come diavolo si chiama, e distruggi tutte quelle stronzate da bramino che ci trovi. Ora mettiti al lavoro. Vale. Ma certo. E se tu non puoi aiutarmi, chi può farlo? E allora raccogli quello che ti serve e torna in fretta per operarmi. Non so quanto tempo mi resta. E allora raccogli gli strumenti che ti servono e fai un ripasso delle tue competenze mediche. Quando sei certo di poter eseguire l'operazione, torna subito indietro. Non so quanto tempo mi resta. Non conosco questa malattia. Si può curare? Non c'è nulla di moderato nella gravità di questa cosa. E se hai intenzione di inventarti i nomi delle malattie, almeno inventali belli. Se non mi puoi aiutare tu, chi lo farà? Apprezzo la tua preoccupazione, ma sono in ottima salute e abbiamo altre faccende di cui discutere. Solo quando sei da queste parti, ti ho detto di occuparti della confraternita. Poi parleremo. Forse. Vale. Non ho niente. Sono solo stanco. Cerca il bunker della confraternita e... Hidden Valley. I miei scout hanno visto delle cose. Io vado a letto. Parleremo più tardi. Una settimana. Forse due. Non importa. Ma vaffanculo! Torna quando avrai altre notizie sulla White Glove Society. Bene. Due dei miei scout mi hanno detto di aver visto pattuglie di uomini in armatura atomica vicino a Hidden Valley. Inizia da lì la tua ricerca. Hai distrutto il bunker della confraternita. Molto bene. Mi fiderò della tua parola e ti ricompenserò come se avessi compiuto tale distruzione dietro mio ordine. Naturalmente se la confraternita dovesse insorgere contro il mio governo ti riterrò personalmente responsabile. Ora procediamo. E allora torna subito là e fai il tuo dovere. Voglio che tu distrugga qualsiasi cosa trovi là dentro. Poi devi tornare qui e raccontarmi tutto. Uno dei miei frumentari si è accampato accanto a Overdam. Il suo nome è Cato Hostilius. Questa è musica per le mie orecchie. Vai da lui. Ti darà ulteriori istruzioni. Ma davvero? Sei proprio in gamba, eh? Se i boomer si adeguano alle regole, posso concentrarmi su altri progetti. Ma non senza averti prima ricompensato per la tua iniziativa. Ora procediamo. Molto bene. L'ultima vittoria conclude i miei sforzi per ricostituire gli equilibri di potere nel Moave. Appena in tempo. I profligate continuano a odiarmi più di quanto odino te. Ma io sono in ballo da più tempo di te. Non è certo un'idea da diffondere. Se l'umanità vuole sopravvivere a questo momento storico, ha bisogno di guerrieri, non di... gadget. Non capisci, vero? Le armi che brandisco sono forgiate con sangue, carne, tendini, ossa, roba mortale. E persino fragile. Eppure la mia legione mi obbedisce, fino alla morte. Perché? Perché vive per servire la causa più grande e non conosce alternative. Le macchine di Hauss, le sue tecnologie, cosa offrono? La possibilità di vincere senza sacrificio? Niente spargimento di sangue, solo qualche goccia. Stavo dicendo che volevo chiederti di stringere un'alleanza con loro, ma ne hai ucciso i capi. Prima che i White Glove abbiano risolto i loro problemi, la battaglia per Overdam sarà già terminata. Passiamo alla prossima questione. Si chiama Autodoc. Come suggerisce il nome, si tratta di un medico automatico, più o meno. Sa curare fratture, tagli, ferite, graffi. Talvolta lo utilizzo su chi desidero avvantaggiare. È un regalo di grande valore in una cultura che vieta gli antidolorifici e ignora quasi del tutto la scienza medica. Dannazione! Devo sdraiarmi! Torna più tardi! Domani! Disturmami ancora una volta e ti faccio uccidere. E cosa sarebbe? E dov'è questo arcade? Puoi cercare nei Vault, ma tutti gli Autodoc che la mia legione ha ritrovato erano stati privati di diversi componenti da lungo tempo. Si dice che gli Autodoc siano attrezzature standard nei Vault sotterranei, dove l'umanità è sopravvissuta quando caddero le bombe, secoli fa. Alcuni scout mi hanno parlato di un Vault abbandonato nei pressi della base aeronautica Nellis, invasa dai ghoul, hanno raccontato. Forse è infestato da tempo sufficiente da aver tenuto lontano gli sciacalli. Perché non vai a dare un'occhiata? Questo l'avevo capito. Congratulazioni! Sei appena diventato il mio medico personale. Hai ciò che ti serve per curare la mia malattia? Non... Lasciami stare, sto bene. Allora, cosa stavo dicendo? Ah sì... Eh? Sì, sì, sì... La confraternita. Loro. Di tanto in tanto mi viene mal di testa. E allora? Comunque abbiamo altre questioni da discutere. Non lo so. C'è stata una coppia. Non... Non ne sono certo. Cosa stavo dicendo? Ah sì, giusto, la confraternita. Fallo e cerca di non metterci troppo. D'accordo. Lascialo fuori dalla tenda quando torni. Se cura la mia malattia, farò in modo che la tua ricompensa sia più che lauta. Ora vai e cerca di non metterci troppo. Ma è stato così male prima. Cosa ti sembra? Testa di cazzo. Vai a trovare degli strumenti chirurgici adatti. Anche le medicine di una borsa del dottore potrebbero essere utili. Farò in modo che ti sia permesso di portare le medicine necessarie nel campo. Sbrigati a tornare. Non so quanto tempo mi resta. Se pensi che sia divertente, dovresti provare la crocifissione. Quanto sono divertente. Se non mi puoi aiutare tu, chi lo farà? Occupati della confraternita. Dopo magari potremo farci una chiacchierata. Chiederò alle mie guardie di catturarlo. Se cura la mia malattia, farò in modo che la tua ricompensa corrisponda a molti multipli del suo valore. Non ha mai avuto un modulo di scansione diagnostica. Senza è inutile per la chirurgia. Torna da me quando avrai distrutto la confraternita d'acciaio. Ritorna quando avrai distrutto ciò che troverai nel bunker. Completa la tua missione, poi torna da me. Vale. Torna quando avrai altre notizie sulla White Glove Society. Torna da me quando avrai distrutto la confraternita d'acciaio. Ritorna quando avrai distrutto ciò che troverai nel bunker. Completa la tua missione, poi torna da me. Vale. Torna quando avrai notizie dei boomer. Finché non ti sarai occupato del signor House, io e te non abbiamo niente da dirci. Hai idea di quanto lavoro c'è voluto per piazzare una talpa McCarran che potesse mettere la bomba alla monorotaia? Quella che tu hai disinnescato? Sono previste ricompense per chi esegue i miei ordini. Oggi la tua ricompensa è la vendetta. Puoi decidere come morirà Benny. Vai da Benny e comunicargli cosa hai deciso. I pretoriani si occuperanno dell'esecuzione. A meno che non voglia farlo tu. Sono certo che la morte di Benny ti sia piaciuta. La distruzione di un nemico. Poche cose danno più soddisfazione. Sai tutto ciò che devi sapere. Vai, anche all'alba della battaglia finale. Hai domande? Cosa volevi sapere? Cos'altro volevi sapere? Con il signor House fuori dai piedi posso concentrarmi sulla risoluzione di alcune complicazioni irrisolte in altri luoghi del Moave. Innanzitutto i Boomer, alla base aeronautica Nellis. Una tribù così chiusa che scaglia munizioni contro chiunque si avvicini al loro insediamento. Voglio che tu offra loro un'alleanza con la legione. Le mie condizioni sono semplici. Dovranno orientare le loro armi contro il lato della diga dove si trova l'RNC quando l'assalterò. Così potranno conservare la loro libertà. Se ti accorgi che non sono favorevoli all'offerta, distruggili. Lo stesso sigillo si trova sul platinum chip che Benny portava quando l'abbiamo catturato. Non è interessante? Lo stesso sigillo si trova sul platinum chip che portavi. Non è interessante? La guarnigione che avevo piazzato a Nelson aveva una funzione strategica essenziale. Pensavi di poterla eliminare senza che io lo scoprissi? In futuro, se scopro che hai commesso altri crimini, i pretoriani ti scanneranno davanti ai miei occhi. Lascia che chiarisca il concetto. Visto che mi sei stato molto utile, per questa volta perdonerò i crimini che hai compiuto contro la legione. Se hai commesso altri crimini, questo è il momento giusto per confessarlo. Da domani non ci sarà più perdono. Ti avevo avvertito. Pretoriani, uccidete questo degenerato! Tu sei il corriere che ha causato così tanti guai alla legione. Eppure osi presentarti dinanzi a me. Finalmente incontro il corriere che ha causato così tanti guai alla Repubblica della Nuova California. Finalmente incontro il corriere che ha compiuto così tante gesta in così poco tempo. È per questo che ti ho convocato qui, no? Voglio dire, un uomo quasi ti uccide e la tua reazione è seguirlo per tutto il Moave. Ho letto il necrologio del signor House. Aveva un'alta opinione di sé, non è vero? Il punto è, sei pronto a metterti al lavoro? Non abbiamo nulla da discutere finché non ti sarai occupato di Benny. Ho sentito che hai liberato Silus prima che potesse parlare. Approvo. Silus si è disonorato lasciandosi catturare e ne pagherà il prezzo. Ma l'RNC non ha imparato nulla di utile. Anche con la White Globe Society di cui occuparti. Hai domande? Anche con un presidente da uccidere. Hai domande? Ok. Riconosciamo un'ovvietà. Ho qualcosa che non va. I mal di testa sono iniziati un paio di mesi fa. All'inizio non erano molto forti, ma ora mi capitano di frequente e sono... debilitanti. Nelle ultime due settimane la mia gamba sinistra mi ha dato dei problemi. È più rigida, difficile da muovere. E tu mi hai visto perdere coscienza. Lucius dice che fisso il nulla. Sbatto le palpebre alcune volte e poi continuo a parlare come se non fosse successo niente. Qual è la diagnosi? Grazie per avermi salvato la vita. Arcade sarà una bella aggiunta al mio seguito. Ti ringrazio per avermi salvato la vita. Il modulo autodoc che hai recuperato ha fatto il suo lavoro. Ho sentito dire che hai ucciso Silus prima che potesse parlare. Approvo. Raggiungimi nella tenda. Io e te dobbiamo fare un discorso in privato. Voglio che tu distrugga la sezione del Moave della confraternita d'acciaio. Non è una sezione molto forte. I profligate... Vuoi morire? Bene. Pretoriani, uccidete quest'idiota. Il tempo della battaglia giungerà presto. Il legato Lanius si avvicina. Quando arriverò, la legione assalterà Hoover Dam. Nel frattempo, i profligate hanno preparato un dono di benvenuto per noi. Il presidente della RNC intende visitare Hoover Dam. Hai sistemato il presidente Kimball con grande abilità. E sotto i loro occhi, per di più. Che umiliazione. Perché non hai attaccato il presidente Kimball? E anche con i boomer di cui ho occuparti. Hai domande? Penso che il platinum chip apra quelle porte, che non possono essere forzate con una leva, né perforate o fatte saltare in aria. Tutti i metodi che ho provato. Cosa ancora più interessante. C'è una fessura della stessa dimensione del chip sulla console che apre la botola. Sai cosa penso? Parleremo di nuovo quando avrai distrutto ciò che si trova nel bunker. Non prima. Ho sentito la terra tremare. Lo prendo come un segnale che il lavoro è stato portato a termine. Procediamo, d'accordo? Come ti dicevo, voglio togliermi dai piedi il signor House. Anche tu hai interesse che muoia. Se scopre che hai distrutto i suoi gadget sotto il forte, si vendicherà. Tu sai dove trovarlo. Decidi tu come farlo fuori. C'è un messo settimane a convincere il Great Khan a unirsi alla legione. Ma tu hai rovinato tutto. Non è vero? Mi porti notizia dei boomer? Ti avrei chiesto di forgiare un'alleanza con la White Globe Society. Ma hai già ucciso i loro capi. Invece... Ah, maledizione. Voglio che tu stringa un'alleanza tra la legione di Caesar e la White Globe Society. Erano cannibali. Immagino che questa informazione possa essere usata per manipolarli. Vai a... Ah, maledizione. L'ultima volta che ci siamo visti, parlavamo della White Globe Society. Il presidente Kimball era alla diga, proprio di fronte a te. Eppure ancora vivo. Come hai fatto a fallire? Le mie forze sono in posizione per attaccare la diga. Il legato Lanius ha assunto il comando. Sei pronto a raggiungerlo? Per dirgli di iniziare l'assalto? Anche con la confraternità di cui occuparti. Hai domande? Grazie per avermi salvato la vita. Sei un guerriero. E un guaritore. Una combinazione rara. Ho passato mesi a pagare mazzette agli omerta, a coltivare il loro tradimento. E tu hai rovinato tutto. Credo che questo pagamento sia una giusta ricompensa per i tuoi servizi. Ora non facciamo i sentimentali. Giù dalla collina, al limite occidentale del campo, si trova un vecchio edificio. È lì che il forte fu preso nel 2277. All'interno dell'edificio si trova una botola, dentro alla quale ci sono due porte d'acciaio che portano il sigillo del casino Lucky 38. Maledizione! Va via! Torna quando avrò dormito un po'. Ti avevo detto di non disturbarmi. Pretoriani! Uccidete questo idiota! Sei riuscito a reclutare la White Globe Society? Se interferisci di nuovo con il mio riposo, dovrò farti uccidere. Parleremo più tardi. La confraternita è stata distrutta? Uno dei nostri agenti è riuscito ad assassinare il presidente dell'RNC. Una tribù chiamata Great Khan si è unita a noi. È meglio che siano bravi i combattenti.